Nel momento stesso in cui Ma pronunciò quelle parole, Coriolanus capì che aveva ragione. Forse solo una madre se ne sarebbe potuta accorgere in quell'oscurità, ma con il suo suggerimento anche lui riconobbe Seianus. Qualcosa nella postura, nella schiena un po' curva, nella linea della fronte. La camicia bianca della divisa scolastica mandava un leggero bagliore tra le ombre e si riusciva quasi a distinguere il tesserino giallo acceso da mentore che gli pendeva sul petto, appeso al cordino. Non aveva la minima idea di come avesse fatto Seianus a entrare nell'arena. Era possibile che un ragazzo di Capitol City, e per di più un mentore, non avesse attirato troppo l'attenzione vicino all'ingresso, dove si potevano comprare ciambelle fritte e limonata rosa, dove ci si poteva unire alla folla chi guardava i giochi sul maxischermo. Si era semplicemente mescolato agli spettatori o aveva addirittura sfruttato quel suo poco di fama per allontanare i sospetti. Il mio tributo ha già finito la corsa, perciò tanto vale che me la goda. Aveva posato per le foto, chiacchierato con i pacificatori per poi scivolare dentro in qualche modo mentre quelli erano distratti. Chi avrebbe mai pensato che volesse entrare nell'arena, e poi perché diavolo l'aveva fatto? Sullo schermo si intravide un Seianus dai contorni indistinti che si inginocchiava, appoggiava a terra un pacchetto e faceva rotolare Marcus sulla schiena. Si sforzò di raddrizzargli le gambe, di piegargli le braccia sul petto, ma gli arti erano diventati rigidi e resistevano ai suoi tentativi di cambiarne la posizione. Coriolanus non capì quello che accadde poi, solo che aveva a che fare con il pacchetto, ma poi vide Seianus alzarsi e tendere la mano sopra il corpo senza vita di Marcus. «E' quello che ha fatto allo zoo», pensò. Ricordava quando, dopo la morte di Aracne, aveva scorto Seianus che spargeva qualcosa sopra il cadavere del tributo morto, Brandy. «E' suo figlio quello là dentro. Cosa sta facendo?» chiese inurridita la signora nonna. «Sparge briciole di pane sul corpo», rispose Ma. «E' quello che facciamo dalle nostre parti quando muore qualcuno». Coriolanus non poté non sentirsi in imbarazzo per lei. Se mai c'era bisogno di una dimostrazione della retratezza dei distretti, l'avevano sotto gli occhi. Gente primitiva, con usanze primitive. Quanto pane avevano sprecato per quell'assurdità. «Oh no! È morto di fame! Qualcuno porti il pane!» Aveva il brutto presentimento che la sua presunta amicizia con Seianus gli si sarebbe ritorta contro. Neanche a farlo apposta suonò il telefono. «Ma c'è tutta la città ancora in piedi stasera?» si chiese la signora nonna. «Scusatemi». Coriolanus si diresse al telefono che era all'ingresso. «Pronto?» disse nel ricevitore, sperando che avessero sbagliato numero. «Signor Snow, sono la dottoressa Goll». Coriolanus si sentì stringere lo stomaco. «Sei vicino a un televisore?» «Sono appena rientrato, in realtà», rispose, cercando di guadagnare tempo. «Ah sì, ecco, la mia famiglia sta guardando». «Cosa sta succedendo al tuo amico?» chiese la donna. Coriolanus voltò le spalle al piccolo gruppo radunato in salotto e abbassò la voce. «Lui non è proprio... sciocchezze. Voi due siete pappa e ciccia», lo interruppe lei. «Aiutami a distribuire i miei panini, Coriolanus. C'è un posto vuoto accanto a me, Seianus». Quando ho chiesto a Casca con quali compagni di studi fosse in confidenza, il tuo è stato l'unico nome che gli è venuto in mente. Era evidente che la sua gentilezza verso Seianus era stata mal interpretata. In realtà erano poco più che conoscenti. «Dottoressa Gol, se mi permettesse di spiegare, non ho tempo per le spiegazioni. In questo preciso momento, quel moccioso di Plint è a piede libero nell'arena insieme a un branco di lupi. Se lo vedono, lo uccideranno su due piedi». Si mise a parlare con qualcun altro. «No, non staccate di colpo, attirerà solo l'attenzione. Limitatevi a creare più buio che potete. Ma fatelo sembrare naturale, un oscuramento graduale, come se una nuvola passasse sulla luna». Un attimo dopo tornò a rivolgersi a lui. «Sei un ragazzo intelligente. Che messaggio trasmetterà al pubblico questa situazione? Sarà un bel danno. Dobbiamo rimediare subito al problema. Potrebbe mandare dentro alcuni pacificatori», disse Coriolanus. «E farlo scappare via come un coniglio?» Lo prese in giro lei. «Prova a immaginare, per un momento, i pacificatori che tentano di rincorrerlo al buio. No, dovremo attirarlo fuori, e con il minor numero di complicazioni possibile, quindi ci serviranno persone a cui tiene. Suo padre non lo sopporta, non ha fratelli, sorelle o altri amici. Rimanete tu e sua madre. Stiamo cercando di localizzarla adesso». Coriolanus sentì un tuffo al cuore. «È proprio qui», confessò. «E tanti saluti alla teoria dei conoscenti». «Bene, detto fatto. Vi voglio tutti e due davanti all'arena entro venti minuti. Tardate, e sarò io ad affibbiarti una nota di demerito, non a High Bottom. Così potrai dire addio a tutte le tue speranze di ottenere un premio». E con quelle parole riagganciò. Coriolanus notò che in tv le immagini erano diventate più scure. Ormai non riusciva a distinguere quasi più la figura di Sejanus. «Signora Plint era il capo-stratega. Vorrebbe incontrarla davanti all'arena per andare a prendere Sejanus, e desidera che io l'accompagni. Non poteva dire di più senza far prendere un colpo alla signora nonna». «È nei guai?», chiese la donna sbarrando gli occhi. «Con Capitol City». Coriolanus trovò strano che fosse più preoccupata di Capitol City che di un'arena piena di tributi armati. Ma forse non aveva tutti i torti dopo quello che era successo a Marcus. «Oh no, sono solo in pensiero per lui. Non dovremmo metterci molto, ma voi non aspettatemi alzate», disse a Tigris e alla signora nonna. Non potendo portarla via di peso, fece uscire la signora Plint il più rapidamente possibile. La mise in ascensore e la guidò attraverso l'atrio. La sua macchina si avvicinò senza rumore e l'autista, con ogni probabilità un senza voce, si limitò ad annuire quando gli chiese di portarli all'arena. «Abbiamo una certa fretta», disse Coriolanus, e la macchina accelerò all'istante scivolando lungo le vie deserte. Se coprire quella distanza in venti minuti era possibile, l'avrebbe fatto. La signora Plint stringeva la borsetta e guardava la città spopolata dal finestrino. «La prima volta che ho visto Capitol City era notte, come adesso». «Ah sì», commentò Coriolanus, «solo per educazione. Insomma, a chi importava?» «Tutto il suo futuro era in pericolo per via dei colpi di testa del figlio». E forse era anche ora di mettere in discussione il ruolo dei genitori, se un ragazzo era arrivato a pensare che fare irruzione nell'arena avrebbe risolto qualcosa. Seianus sedeva proprio dove sei tu e diceva «Andrà tutto bene, ma, andrà tutto bene». Cercava di tranquillizzare me. «Quando sapevamo entrambi che era una catastrofe», continuò la signora Plint. «Ma lui era così coraggioso, così buono», pensava solo alla sua ma. «Deve essere stato un bel cambiamento». Che problema avevano i Plint, in ogni caso, per trasformare sempre il vantaggio in tragedia? Bastava un'occhiata superficiale all'interno di quell'auto, al cuoio lavorato, ai sedili imbottiti, al bar con le bottiglie di cristallo contenenti liquidi colorati come gemme, per capire che erano tra le persone più fortunate di Panem. «La famiglia e gli amici ci hanno tagliato fuori», proseguì la signora Plint. «Di nuovi qui, neanche a parlarne. Strabo, cioè suo padre, pensa ancora che sia stato giusto così. Il due non offriva un futuro di nessun genere. È stato il suo modo di proteggerci, il suo modo di evitare i giochi a Seianus». «Che ironia, date le circostanze». Coriolanus tentò di dirottare la sua attenzione altrove. «Dunque, non so cosa abbia in mente la dottoressa Goal, ma immagino voglia il suo aiuto per farlo uscire da lì. Non so se ne sono capace», disse. «Con lui così sconvolto e tutto il resto. Posso provarci, ma dovrà convincersi che è la cosa giusta da fare». «La cosa giusta da fare». Coriolanus si rese conto che era quello il criterio che aveva sempre guidato le azioni di Seianus. La sua determinazione a fare la cosa giusta. Quella tenacia, per esempio il modo in cui aveva sfidato la dottoressa Goal, quando invece tutti loro cercavano solo di cavarsela nel modo più indolore, era uno dei motivi per cui suscitava ostilità negli altri. Onestamente, poteva risultare insopportabile quando pronunciava le sue osservazioni altezzose. Ma giocare proprio su quello poteva essere il modo giusto per manipolarlo. Mentre la macchina si fermava all'ingresso dell'arena, Coriolanus notò un tentativo di nascondere la crisi in atto. I pacificatori presenti erano una decina e il gruppetto degli strateghi era ancora più ridotto. I chioschi che offrivano da mangiare e da bere avevano chiuso. La folla della giornata si era già dispersa, quindi rimaneva ben poco che potesse attirare spettatori incuriositi. Scendendo dall'auto, si accorse che la temperatura si era abbassata da quando era tornato a casa. Nel retro di un furgone, un monitor di Capitol News diviso in due parti mostrava la vera diretta dell'arena a fianco della versione scurita che veniva trasmessa al pubblico. Intorno allo schermo erano riuniti la dottoressa Goal, il decano High Bottom e alcuni pacificatori. Mentre si avvicinava con la signora Plint, Coriolanus vide Sejanus inginocchiato vicino al corpo di Marcus, immobile come una statua. Perlomeno siete stati puntuali, disse la dottoressa Goal. La signora Plint, immagino. Sì, sì, rispose la donna con un tremito nella voce. Mi dispiace se Sejanus ha causato disagi. È un bravo ragazzo, sul serio. È solo che prende le cose molto a cuore. Nessuno potrebbe mai tacciarlo di indifferenza, concordò la dottoressa Goal. Si rivolse a Coriolanus. Qualche idea su come potremmo recuperare il tuo miglior amico, signor Snow? Coriolanus ignorò la frecciata e studiò lo schermo. Cosa sta facendo? Si limita a starsene inginocchiato lì, pare, osservò il decano. Può darsi che sia in stato di shock. Sembra tranquillo. Forse adesso potreste mandare dentro i pacificatori senza spaventarlo, no? Suggerì Coriolanus. Troppo rischioso, obiettò la Goal. E dare a sua madre un altoparlante o un megafono? continuò Coriolanus. Se potete offuscare lo schermo, potete sicuramente escludere anche l'audio. Sulla trasmissione tv, sì. Ma nell'arena avvertiremmo i tributi che in mezzo loro c'è un ragazzo disarmato di Capitol City, replicò Highbottom. Coriolanus cominciava ad avere un brutto presentimento. Cosa proponete? Riteniamo che qualcuno che lui conosce debba intrufolarsi là dentro, nel modo più discreto possibile, per convincerlo a uscire, rispose la dottoressa Goal. Nella fattispecie, tu. Oh no, proruppe la signora Plint con una sprezza sorprendente. Non può essere Coriolanus. L'ultima cosa che ci serve è mettere in pericolo un altro ragazzo. Lo farò io. Coriolanus le fu grato per l'offerta, ma sapeva che le possibilità di riuscita della signora Plint erano minime. Con gli occhi gonfi e arrossati, i tacchi alti e traballanti, non ispirava una gran fiducia come agente segreto. Quello che ci serve è qualcuno in grado di darse la gambe, se necessario. Il signor Snow è l'uomo giusto. La dottoressa Goal fece un cenno ad alcuni pacificatori. E Coriolanus si ritrovò infagottato in un giubbotto antiproiettile, pronto per l'arena. Questo dovrebbe proteggere i tuoi organi vitali. Qui ci sono lo spray al peperoncino e un lampeggiatore che accecherà momentaneamente i tuoi nemici, dovessi fartene qualcuno. Coriolanus guardò la bomboletta e il flash. E una pistola, magari? O almeno un coltello? Visto che non sei addestrato a usarli, questi sembrano strumenti più sicuri. Ricorda, non sei lì dentro per fare danni. Sei lì dentro per portare fuori il tuo amico il più rapidamente e silenziosamente possibile, gli spiegò la dottoressa Goal. Un altro studente, o Coriolanus stesso, solo un paio di settimane prima, si sarebbe ribellato a quella situazione. Avrebbe insistito per chiamare un genitore o un tutore. Avrebbe implorato. Ma dopo l'attacco dei serpenti a clemenzia, gli strascichi lasciati dalle bombe e la tortura di Marcus, sapeva che sarebbe stato inutile. Se la Goal aveva stabilito che lui doveva entrare nell'arena di Capitol City, era lì che sarebbe andato, anche se non c'era in ballo il suo premio. Lui era proprio come i soggetti degli altri esperimenti della dottoressa, studenti o tributi, insignificante quanto senza voce nelle gabbie, incapace di opporsi. «Non potete fargli questo, è solo un ragazzo. Permettetemi di chiamare mio marito», supplicò la signora Plint. High Bottom rivolse un sorrisetto a Coriolanus. «Se la caverà benissimo, ce ne vuole per far fuori uno snow». Che l'idea fosse stata tutta del decano, che avesse visto una bella scorciatoia per distruggere una volta per tutte il futuro di Coriolanus. A ogni buon conto parve sordo alle preghiere di Ma. Scortato da due pacificatori, per la sua sicurezza o per evitare che scappasse, si avviò verso l'arena. Ricordava poco di quando l'avevano portato fuori dopo le esplosioni. Forse erano passati da un'altra uscita, ma ora poteva vedere gli ingenti danni provocati all'ingresso principale. Uno dei due grandi battenti era stato spazzato via, al suo posto solo un ampio buco incorniciato da metallo contorto. Sorveglianza esclusa non avevano fatto granché per mettere in sicurezza quella zona, se non piazzare davanti all'apertura delle barriere di cemento alte fino alla vita disposte su più file. Sejanus non doveva aver avuto problemi a superarle, in presenza di un diversivo accettabile, e c'era stata una confusione da Luna Park per gran parte della giornata. Se i pacificatori fossero stati interessati a potenziali attività dei ribelli, si sarebbero concentrati su chi poteva prendere di mira la folla. Eppure sembrava tutto un po' troppo disteso. E se i tributi avessero tentato di svignarsela un'altra volta? Coriolanus e la sua scorta zigzagarono tra le barriere ed entrarono nell'atrio, che aveva incassato molteplici colpi. Le poche lampadine intatte intorno alle biglietterie e ai chioschi mostravano uno strato di polvere d'intonaco che copriva grosse porzioni di soffitto e di pavimento, colonne rovesciate e travi cadute. Per arrivare ai tornelli bisognava farsi strada tra le macerie. E di nuovo Coriolanus capì che Sejanus avrebbe potuto superarle inosservato solo ricorrendo a un po' di pazienza e a un pizzico di fortuna. Dei tornelli sulla destra, quelli più colpiti, rimanevano frammenti metallici fusi e deformati che consentivano di proseguire liberamente verso l'interno. In quel punto i pacificatori avevano costruito la prima, vera fortificazione, montando una serie di sbarre ricoperte di filo spinato e destinandovi cinque o sei guardie armate. I tornelli integri, invece, costituivano ancora uno sbarramento efficace. Quindi aveva un gettone, chiese Coriolanus. Aveva un gettone, sì, confermò un anziano pacificatore che sembrava essere a comando. Ci ha colti alla sprovvista. Non ci aspettiamo che qualcuno voglia introdursi nell'arena durante i giochi, solo fuggirne. Prese un gettone dalla tasca e glielo tese. Questo è per te. Coriolanus si rigirò il dischetto tra le dita, ma non accennò a muoversi. Come pensava di uscire? Non credo pensasse di farlo, rispose il pacificatore. E io come esco? A Coriolanus sembrava che il piano fosse come minimo rischioso. Da lì. L'uomo indicò le sbarre. Possiamo tirare via il filo spinato e inclinare le sbarre in avanti per creare un'apertura abbastanza grande da strisciarci sotto. E potete farlo in fretta, chiese dubbioso. Ti seguiamo sulla videocamera di sorveglianza. Cominceremo a spostare le sbarre quando vedremo che lo stai portando fuori, gli garantì il pacificatore. E se non riuscissi a convincerlo a seguirmi? Non abbiamo ricevuto istruzioni al riguardo. Il pacificatore si strinse nelle spalle. Immagino che dovrai restare fino a missione compiuta. Un sudore freddo lo inondò dalla testa ai piedi, quando comprese la portata di quelle parole. Non gli sarebbe stato permesso di uscire senza Sejanus. Dal tornello guardò verso il fondo del corridoio, dove c'era la barricata eretta sotto il tabellone segnapunti. Barricata da cui aveva visto entrare e uscire la mina, Cirque e Tesli all'inizio dei giochi. E quella? Quella è per fare scena, in realtà. Blocca la visuale dell'atrio e della strada. Non possiamo vederla sulla videocamera, spiegò il pacificatore, ma non avrai problemi a superarla. Quindi non ne avrebbero neppure i tributi, pensò Coriolanus. Passò il pollice sulla superficie scivolosa del gettone. Ti copriamo noi fino alla barricata, per cui ucciderete tutti i tributi che mi attaccheranno, precisò Coriolanus. Comunque li metteremo in fuga, disse l'uomo. Non preoccuparti, ti guardiamo le spalle. Ottimo, replicò Coriolanus, tutt'altro che convinto. Si preparò e infilò il gettone nella fessura, poi spinse i bracci metallici. Si goda lo spettacolo, gli ricordò il tornello, sembrandogli dieci volte più rumoroso nell'immobilità della notte. Uno dei pacificatori ridacchiò. Coriolanus si diresse verso la parete di destra, avanzando il più rapidamente e silenziosamente possibile. Le luci d'emergenza, unica fonte di illuminazione, spandevano un tenue bagliore rosso sangue lungo il corridoio. Strinse forte le labbra, controllando il respiro dal naso. Destra, sinistra, destra, sinistra, niente, nessun movimento. Che i tributi fossero davvero andati a dormire per la notte, come aveva suggerito Lucky? Si fermò per un istante davanti alla barricata. Era finta, proprio come aveva detto il pacificatore. Fragili strati di filo spinato montati su telai, traballanti strutture di legno e lastre di cemento sistemati in modo da bloccare semplicemente la visuale, non per tenere confinati i tributi. Forse non c'era stato il tempo di costruirne una vera, o magari era stato ritenuto inutile, con le sbarre e i pacificatori che si trovavano dietro di lui. Gli bastò attraversarla per ritrovarsi sul bordo del campo. Indugiò un momento dietro l'ultimo tratto di filo spinato, osservando attentamente la scena. La luna era alta nel cielo e sotto la sua tenue luce argentata riusciva a distinguere la figura di Sejanus, di spalle rispetto a lui ancora inginocchiato sul corpo di Marcus. La mina non si era mossa. A parte questo, l'area circostante sembrava deserta. Ma lo era davvero. La devastazione provocata dalle bombe forniva un'ampia scelta di nascondigli. Gli altri tributi potevano essere nascosti a pochi metri di distanza, e lui non l'avrebbe mai saputo. Nell'aria notturna, la camicia intresa di sudore che gli si era attaccata alla pelle gli fece desiderare di avere la giacca. Pensò a Lucy Gray, con il suo vestito senza maniche. Si era forse rannicchiata contro Jessup in cerca di calore. L'immagine non gli andava a genio, quindi la scacciò. Non poteva pensare a lei in quel momento. Doveva concentrarsi solo sul pericolo attuale e su Sejanus, su come farlo arrivare dall'altra parte del tornello. Coriolanus si inspirò a fondo, poi uscì allo scoperto. Si mosse senza far rumore, come le linci del circo che aveva visto lì da bambino, impavide, potenti e silenziose. Sapeva di non dover spaventare Sejanus, ma aveva bisogno di avvicinarsi per potergli parlare. Quando fu a circa tre metri da lui, si fermò e parlò sottovoce. Sejanus, sono io! Il ragazzo si irrigidì. Poi le sue spalle cominciarono a sobbalzare. In un primo momento Coriolanus pensò che si inghiozzasse, ma era l'esatto contrario. Non riesci proprio a smettere di soccorrermi, eh? Coriolanus si unì alla sua risata. È più forte di me. Ti hanno mandato a tirarmi fuori? Che follia! Poi la risata si spense e Sejanus si alzò in piedi. Hai mai visto un cadavere? Ne ho visti parecchi durante la guerra. Prese la domanda come un invito a raggiungerlo. Ecco, ora poteva afferrargli un braccio, ma poi era improbabile che riuscisse a trascinarlo fuori dall'arena. Preferì infilarsi le mani in tasca. Io non ne ho visti tanti. Non a questa distanza. Ai funerali, forse. E l'altra sera allo zoo, solo che quelle ragazze erano appena morte, quindi i loro corpi non erano ancora diventati rigidi, disse Sejanus. Non so se preferirei essere cremato o sepolto. Non che sia rilevante, in realtà. Beh, non sei obbligato a deciderlo adesso. Coriolanus perlustrò il campo con lo sguardo. C'era una persona nel buio, dietro il muro caduto. Oh, non sarà comunque una mia scelta, replicò Sejanus. Non so perché i tributi ci stiano mettendo tanto a trovarmi. Ormai sono qui dentro da un po'. Guardò Coriolanus per la prima volta e aggrottò la fronte, preoccupato. Dovresti andartene, sai? Mi piacerebbe, ribatté con prudenza Coriolanus. Davvero. Solo che ho un problema. Tua madre sta aspettando qui davanti. Piuttosto sconvolta. Ho promesso che ti avrei portato da lei. L'espressione di Sejanus si fece tremendamente triste. Povera ma. Povera vecchia ma. Lei non ha mai desiderato niente di tutto questo. I soldi, il trasferimento, i vestiti costosi, l'autista. Lei desiderava solo restare nel due. Ma mio padre... Scommetto che lui non è qui, giusto? No, lui si terrà a distanza finché il problema non si risolverà. Dopodiché si cominci pure a comprare. Comprare cosa? La brezza arruffava i capelli di Coriolanus e produceva un rumore fioco eppure riecheggiante all'interno dell'arena. Ci stavano mettendo troppo e Sejanus non faceva il minimo sforzo per parlare piano. Comprare tutto. Ha comprato la nostra venuta qui. Ha comprato la mia istruzione. Ha comprato il mio carico da mentore e va fuori di testa perché non riesce a comprare me. Rispose Sejanus. Comprerà anche te se glielo permetterai. O almeno ti ripagherà per aver cercato di aiutarmi. Che mi compri pure allora, pensò Coriolanus, ricordando la retta universitaria dell'anno a venire. Ma si limitò a dire. Sei mio amico. Non ha bisogno di pagarmi per aiutarti. Sejanus gli posò una mano sulla spalla. Tu sei l'unica ragione per cui ho resistito tanto, Coriolanus. Devo smetterla di metterti nei guai. Non avevo capito quanto fosse brutta questa situazione per te. Avrei dovuto accettare che ci scambiassimo i tributi quando l'hai chiesto. Sejanus sospirò. Non ha più importanza. niente ce l'ha a dire il vero. Certo che ha importanza, insistè Coriolanus. Stavano arrivando, lo sentiva. Percepiva l'avvicinarsi di un branco che a poco a poco gli si stringeva intorno. Vieni via con me. No, è inutile, rispose Sejanus. Non mi resta altro da fare che morire. Coriolanus lo calzo. Tutto qui. È la tua unica alternativa. È l'unico modo in cui posso esprimermi, forse, lasciando che tutti mi vedano morire in segno di protesta, concluse Sejanus. Anche se non sono davvero di Capitol City, non sono nemmeno uno dei distretti, come Lucy Gray, ma senza il suo talento. Credi sul serio che mostreranno questa cosa? Rimuoveranno il tuo corpo con discrezione e diranno che sei morto di influenza. Coriolanus si interruppe, chiedendosi se non avesse detto troppo, se le sue parole non puntassero in modo troppo esplicito alla sorte capitata a Clemenzia. Ma in quel momento la dottoressa Goll e il decano Highbottom non erano in grado di sentirlo. Hanno oscurato lo schermo. Sul viso di Sejanus calò un'ombra. Non la mostreranno. Nemmeno per sogno. Sarai morto per niente e avrai sprecato la possibilità di migliorare le cose. Un colpo di tosse, breve e soffocato, ma senz'altro un colpo di tosse, proveniente dalle tribune sulla destra. Non era frutto della sua immaginazione allora. Quale possibilità? chiese Sejanus. Tu sei ricco. Forse non ora, ma un giorno possiederai una fortuna. Il denaro ha molti usi. Guarda come ha cambiato il tuo mondo. Può darsi che anche tu possa operare dei cambiamenti. Di quelli buoni. E magari, se non lo fai, soffriranno tante altre persone. La mano destra di Coriolanus si strinse intorno alla bomboletta spray al peperoncino. Poi guizzò al lampeggiatore. Quale dei due lo avrebbe aiutato davvero se fosse stato attaccato? Lo spray o il flash? Cosa ti lascia credere che riuscirei a fare una cosa del genere? chiese Sejanus. Tu sei il solo che ha avuto il fegato di tenere testa la dottoressa Gol? rispose Coriolanus. Odiava doverglielo concedere, ma era vero. Lui era l'unico studente della classe ad averla sfidata. Ti ringrazio. Sejanus pareva stanco, ma un po' più in sì. Ti ringrazio per questo. Coriolanus poggiò la mano libera sul braccio di Sejanus, come per confortarlo, ma in realtà per afferrargli la camicia nel caso in cui fosse scappato. Ci stanno accerchiando. Io me ne vado. Vieni con me. Vedeva che Sejanus cominciava a cedere. Per favore, cosa vuoi fare? Combattere contro i tributi o combattere per loro? Non dare alla dottoressa golla a soddisfazione di sconfiggerti. Non mollare. Sejanus rimase a fissare Marcus per un lungo istante, valutando le alternative. Hai ragione, disse alla fine. Se credo a ciò che dico, è mio dovere fermarla. Porre fine a tutte queste atrocità in un modo o nell'altro. Sollevò la testa, come se si fosse accorto all'improvviso della loro situazione. I suoi occhi si volsero alle tribune, là dove Coriolanus aveva sentito il colpo di tosse. Ma non abbandonerò Marcus. Io lo sollevo dai piedi. Dalle gambe di Marcus, rigide e pesanti, si sprigionava un forte odore di sangue e di marcio. Ma Coriolanus le cinse tra le sue braccia, piegando più che poteva le ginocchia del cadavere, e lo tirò su, mentre Sejanus lo afferrava dal petto. E insieme cominciarono a muoversi, un po' trasportando il corpo e un po' trascinandolo verso la barricata. Dieci metri. Cinque metri. Non erano lontani ormai. Una volta sgombrata la strada, i pacificatori avrebbero fornito loro un minimo di copertura. Coriolanus inciampò su un sasso e cadde, battendo il ginocchio contro qualcosa di appuntito e tagliente. Ma si rialzò di scatto, trascinando il corpo di Marcus. C'erano quasi. C'erano. I passi giunsero da dietro, veloci e leggeri. Provenivano dalla barricata, dove il tributo era rimasto in attesa. Con un riflesso automatico, Coriolanus lasciò cadere Marcus e ruotò su se stesso. Appena in tempo per vedere Bobbin calare il coltello.